Eccellenze, devi andare orgogliosi, chef, video creator e food reporter da 26 anni, cucina con passione e talento all'interno dei rinomati hotel e ristoranti del Benito, oltre 60.000 follower, ha fatto parte di trasmissioni Mediaset della Rai, è stato chef a casa Sanremo per un caolo e portando i piatti della tradizione del nostro territorio e alla fine cucinerà per noi, per l'occasione della fiera.